Oggi vediamo come si costruisce un naso Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione del corso di disegno Oggi vediamo come impostare il disegno del naso Le tecniche geometriche su cui basare quella che è l'impostazione del naso Anche qui faccio il mio solito disclaimer Non ho portato a compimento il disegno perché non mi serviva Mi serviva soltanto farvi capire come impostarlo Anche qui dico che i casi possono essere diversificati Vi faccio vedere durante la messa in opera del disegno Come spostare linee del naso a seconda della tipologia di naso che vorrete creare E allora basta cianciare, spostiamoci di là e andiamo a vedere il naso come si fa Iniziamo col disegnare una pallina La pallina dovrà essere delle dimensioni della larghezza della punta del naso Da questo si determinerà il setto nasale che andiamo a far iniziare dall'alto Scendendo verso il lato esterno della pallina Devono congiungersi La parte sommitale di queste due linee parallele deve essere leggermente più ravvicinata Che non la parte che tocca sulla pallina Dividiamo idealmente quella pallina in tre parti E dalla parte inferiore facciamo venire fuori una sorta di curva Che fuoriesca dalla pallina la stessa lunghezza E questa sarà la larghezza del naso Quindi congiungiamo dall'altra parte facendo appunto una sorta di mandorla Con una curva che vada al contrario e questo darà la base del naso Ora tiriamo su leggermente divaricate due linee come a formare un piccolo trapezio E poi da circa un quarto, un terzo, un quarto delle due linee parallele Facciamo scendere una linea obliqua che congiunga con le due piccole linette Che avevamo fatto salire dagli angoli appunto di quella mandorla che avevamo creato Adesso ripercorriamo con la matita con un tratto più deciso Le due linette laterali della narice che sarebbero comunque la piega della narice E discendiamole con una piccola curva verso il basso Quindi poi ripercorriamo la parte superiore della mandorla Andando ad includere anche la rotondità della pallina Ecco avremo creato le narici Adesso si tratta soltanto di mettere il chiaroscuro Partite ad immettere il chiaroscuro con una matita leggerissima Come vedete io sto impugnando un HB e vedrete quanta grafite spanderà Tutto quello che vedete sul disegno è dato ad HB E iniziate piano piano, delicatamente, ad immettere il chiaroscuro lungo tutte le linee che abbiamo tracciato per il costrutto del naso Poco poco e in maniera molto molto leggera Quindi adesso spandiamo la grafite con lo sfumino Che farà gran parte del lavoro Dobbiamo fare in modo che il tratto della matita venga ammorbidito E che la grafite venga a dare volume sfumato al naso Qui mi vedrete sempre con uno sfumino ben temperato e una matita ben temperata E vedrete come a poco a poco si costruisce la figura Si vanno a sfumare le linee in modo che scompaiano Vi dico sempre che nel disegno le linee vanno inglobate nel disegno, nel chiaroscuro Ecco intendo proprio questo gesto che sto facendo adesso La linea scompare viene inglobata nel chiaroscuro Da tutti i lati Vedete già la forma del naso c'è Ora bisogna soltanto far accrescere volumetricamente il naso Con pazienza e step by step controllando sempre di non esagerare Nel corso dell'evoluzione del disegno vedrete che io a un certo punto immetto molta grafite Guardate quanta grafite si spande da un piccolo passaggio Io ancora non sto immettendo nuova grafite Adesso vado alla ricerca degli scurissimi rinfrancando le zone in ombra con una 3b Perché da hb a 3b c'è un grande salto E quindi con lo sfumino comincio a spandere, spandere, spandere lo scuro E vedrete a un certo punto quanto buio diventerà Guardate come sto evitando le parti che voglio lasciare in luce Proprio per non sporcarle troppo E vado a rinfrancare invece quelle che voglio in ombra Tanto da sembrare troppo scure In realtà no perché adesso vi vedrete utilizzare lo sfumino in maniera differente Tiro fuori le lumeggiature Quindi vedete che ho lo sfumino nuovamente pulito Ogni volta lo grattugio per farlo tornare pulito E adesso vedete come vado a togliere grafite con lo sfumino Vi metto, sfumo Guardate anche l'inclinazione della matita L'inclinazione così obliqua serve per non essere troppo incisivi con il tratto Ma rimanere molto molto delicati Mentre con lo sfumino vado a togliere, a spandere, a creare tutti quelli che sono le cavità I chiaroscuri più importanti Adesso sfumino bianco e si va a togliere e a spalmare quello che si è messo Vedete ogni volta lo sfumino ritorna bianco e al lato del foglio vedete il tagliabalza con cui lo affilo Ecco vedete la punta come la sto affilando in questo momento Questo è un lavoro molto importante perché mi serve per tenere pulite le parti chiare Che vado a nettare anche con la gomma elettrica E poi vado a spandere su tutto la grafite con uno sfumino pulito quindi senza pasticciare Ora vedrete come quelle due linee laterali così evidenti vadano via via sfumandosi e alleggerendosi Ecco qua vedete semplicemente col gesto di togliere togliere e togliere E nello scaricare le ombreggiature ricordatevi sempre di seguire il verso anatomico dell'ombra Quindi seguire il verso in cui la luce accarezza il viso Dopodiché tirare fuori i bianchi assoluti e dare un'unità di lettura al tutto Bene e portiamo così avanti tutto il disegno finché non siamo soddisfatti Quello che a me però adesso interessa mostrarvi è la costruzione del naso Dei vari tipi di naso Quindi finisco il chiaroscuro e torno subito da voi Ma adesso vi ho fatto vedere un naso ma le tipologie di naso sono infinite E da cosa dipendono? Dipendono sempre da questo costrutto Vi faccio vedere come montando solamente mezza mandorla sul naso A seconda di dove si è posizionata la pallina rispetto a questa mandorla Vedrete che il naso prenderà una connotazione differente Guardiamo il primo in alto è un naso normale Se allunghiamo la curva viene più largo Se abbassiamo la pallina viene più schiacciato Se abbassiamo la pallina rispetto alla linea del naso Viene un naso più aquilino e appuntito Guardate adesso vedete Faccio sì che la pallina sia totalmente al di fuori della mandorla Al di sotto vedete viene fuori un naso alla cattivo Con la punta spostata verso il basso Se invece per esempio la pallina non tocca il margine inferiore della mandorla Verrà un naso molto molto all'insù Molto alla francese Quindi dipende da ciò che vorrete costruire Allargate le varie proporzioni Spostate la pallina su o giù rispetto alla mandorla E avrete nasi sempre differenti Quindi allenatevi, divertitevi E create tutti i tipi di naso che vorrete Seguendo queste semplici indicazioni Lasciate un pollice in su se vi è piaciuto il video E ci vediamo alla prossima Ciao Bene spero che questo video vi sia stato utile Se è così mi raccomando lasciatemi un pollice in su E condividetelo sulle vostre pagine facebook Venitemi a trovare su facebook e su instagram Sui miei altri canali Ombretta e 2 con 1 k E soprattutto tornate sempre qui per un prossimo video Da Ombretta e da arte per te è tutto Alla prossima volta ragazzi Ciao